Il Rapallo vuole inforcare una striscia positiva per sedersi al tavolo delle grandi, il Molasana cerca punti, salvezza, Zunino sblocca l'incontro dopo solo 12 minuti di gioco e fa capire agli ospiti genovesi che sarà un pomeriggio problematico, anche perché la via degli uomini di Fresia è a dir poco in sesta marcia, i locali centrano in pieno al palo 5 minuti più tardi e prima della mezz'ora sono già 2-0 perché la tanto discussa costruzione dal basso hanno avuto tra le sue vittime, anche la formazione rosso-bluca. Il Rapallo che perde palla la recupera Zunino che chiude il raddoppio e la doppietta personale e non finisce qui perché a 10 dal duplice fischio si aggiunge alla festa anche Chiarabini, diagonale di sinistro per il numero 7 e 3-0, shock per il Molasana che però nella ripresa reagisce, lo fa col piedeperno di Mereto che al settimo della ripresa è in modalità centro-boa, batte Scatolini, in diagonale ne viene fuori una gran bella partita con tanti errori perché il Molasana ha subito due occasioni per aprire la gara, una ancora con Mereto da fuori, l'altra clamorosa di testa, con Mangia Tordi, poi il Rapallo rivalorese da là al festival dei gol mangiati, Zunino viene prima murato poi strozza il tiro col sinistro, il mio papà Imeri a proposito auguri a lui, mamma Stefania e nonna Anna Maria e benvenuta Noemi calcia dritto per dritto dal limite dell'aereo di rigore, infine Chiarabini viene murato da Carlucci e allora alla fine il Molasana. La riapro veramente col colpo di testa su angolo da sinistra di Farina, è l'85esimo e il Rapallo non soffre più di tanto anche se Scatolini deve volare su una sassata da fuori aria, terza vittoria in campionato per i padroni di casa, il Molasana rimane ultimo insieme a Cadimare e Sestrese.